Alla tappa del focus tour di Rimini siamo con Andrea Lazzaretti, amministratore ACES. Perché è importante per un distributore a valore aggiunto partecipare a questo tipo di eventi? Essere presenti in questi eventi qui, quindi conoscere prodotti nuovi, soprattutto le normative che interessano in questo caso specifico l'antincendio, è importante, soprattutto in una zona come Rimini, alberghi, centri commerciali, eccetera, ma per riuscire a dare e trasmettere ai nostri installatori, ai nostri clienti, ai progettisti che vengono da noi in negozi, in magazzino, poter dar loro il supporto istantaneo, poter consigliare il prodotto non solo da un punto di vista economico, quindi scegliere il prodotto più economico come magari richiedono molti, ma poterli consigliare, alle volte far spendere loro anche di più in virtù di un prodotto migliore che faccia il caso loro in base alle diverse tipologie di impianto e riuscire così a soddisfare le esigenze dell'utilizzatore finale, quindi dell'albergatore piuttosto che del centro commerciale o quello che può essere, e soprattutto dell'installatore che si troverà a scegliere un prodotto e avere in prima battuta un consiglio nostro, poi tramite i partner con cui collaboriamo riuscire a fornire al meglio la soluzione. Chiarissimo. Lei ha citato anche l'aspetto della normativa, quindi per voi formarvi vuol dire anche trasmettere a loro formazione? Certo. Per noi essere informati subito su quelle che sono le normative che cambiano, perché comunque cambiano rapidamente, poter consigliare meglio l'installatore anche in fase proprio di installazione, perché spesso può capitare che qualcuno si dimentichi qualcosa, essere consapevoli del prodotto che stiamo dando, come collegarlo, come poterlo installare è sicuramente importante. La normativa, come oggi, come la tappa di oggi, è per noi fondamentale saperla. Non possiamo fare diversamente, non possiamo vivere nell'ignoranza anche a base di quello che abbiamo ascoltato. Il distributore, in primis, deve poter dare il prodotto giusto per l'installazione. Benissimo. E quindi questo sta a confermare ulteriormente quanto il servizio sia vincente nel vostro settore. Assolutamente sì. L'installatore che sceglie Access in questo caso, ma l'installatore che sceglie il proprio distributore di fiducia, lo fa sempre a discapito del prezzo. Lo fa quasi esclusivamente per il servizio. Il prezzo può essere una componente, ma non è la più importante. Il servizio è quello che ti fa scegliere, ti fa avere fiducia del tuo distributore. Un servizio buono va fatto essendo formati, conoscendo i prodotti e potendo suggerire e consigliare al meglio quelle che sono le varie necessità.